Tra tutte le carte prepagate disponibili in Italia, la carta post-pay standard è sicuramente una delle più conosciute. In questo video parleremo dei costi di utilizzo e attivazione di una carta post-pay standard, quindi cominciamo. Per poterla acquistare è necessario recarsi in un ufficio postale, uniti di documenti personali, codice fiscale e carte d'identità, e prendere il numero di prenotazione, appartenente alla categoria dei servizi finanziari, aspettare il proprio turno e recarsi allo sportello, dove ti verrà consegnato un modulo da compilare. Tuttavia, nel caso della post-pay junior, la richiesta deve essere rappresentata dal genitore del minore. L'emissione di una post-pay prevede un costo, infatti è necessario versare una cifra, seppur irrisoria, di denaro. Il costo, infatti, ammonta 5 euro sia per la post-pay standard che per la post-pay junior. La carta viene consegnata al titolare seduta a stante, in una busta sigillata dove, oltre alla post-pay, troverai anche il codice PIN che sarà necessario per poter usufruire dei servizi offerti. La ricarica minima prevista è obbligatoria ed ammonta a 5 euro. Il costo di una post-pay standard per poterla attivare è di 10 euro e inclusi sono 5 euro che fungeranno da prima ricarica minima. Il processo per l'emissione della carta è semplice e va richiesta a un ufficio di poste italiane. Ci sono alcuni costi da sostenere per certe tipologie di prelievi e pagamenti. Se effettuate un prelievo da un ATM bancario abilitato in Italia o nell'Unione Europea, il costo sarà di 1,75 euro, mentre se lo stesso prelievo lo effettuate in un ATM post-AMAT o dagli uffici postali che sono abilitati, il costo sarà di un solo euro. Se invece effettuate un prelievo in un ATM bancario abilitato ma che non appartiene nell'Unione Europea incorrerete in un costo di 5 euro. Per quanto riguarda i pagamenti ricordiamo che saranno gratuiti nel caso che li effettuate su un posto del circuito Visa da un ufficio postale abilitato per la ricarica del cellulare, sul sito di post italiane, sui post virtuali e anche sui terminali aderenti ai circuiti Maestro, Visa PayWave, Visa Electron o Mastercard. In caso di smarrimento o furto della carta dovrete presentarvi in un ufficio postale per poter verificare la vostra identità e dare alcune informazioni essenziali come ad esempio il numero della carta che è stata persa, la coppia della denuncia e un documento per verificare la vostra identità. Prima ancora di recarvi nell'ufficio postale però dovrete chiamare il numero verde 800 90 21 22 dall'Italia oppure 39 049 2100 149 dall'estero. Ricordiamo comunque che la procedura è completamente gratuita anche se dovete pagare i soliti 10 euro per attivare la vostra carta poste pay. In questi 10 euro 5 sono la vostra prima ricarica minima. Se avevate dei soldi nel saldo poste pay della vostra carta occorrerà procedere al rimborso di questi ultimi. Tuttavia se la vostra carta poste pay sta per scadere è importante avviare la procedura di rinnovo prima che questa scada dato che da quel momento in poi non la potrete più utilizzare. In questo caso non ci sarà alcun costo per l'attivazione e neanche per il trasferimento del credito che era residuo nella vostra vecchia poste pay. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Vi ricordiamo che nel nostro canale youtube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo.